Sì, sono cresciuti in piena. Ah, quindi conosci anche Alice, eh? L'hanno vista crescere. Non capiscono e non sono più una bambina. E poi cerca di cambiare tono con me, perché così non va bene. Ah sì? Perché sennò che cosa fai? Guarda, stavo venendo da voi. So tutto. Sto male, portami a casa. Mamma, ma Alice non è rientrata? Ma non era con voi. Perché ce lo chiedete a noi? Senti, Alice non è tornata a casa, tu sei qualcosa. Alessandro, dove sei? Ti devo parlare, è urgente. Ti ammazzo, figlio di puttana! Faccio mentirmi, è salato! Sai che abbiamo identificato del DNA esterno sugli abiti di Alice. E risulta appartenere a un vostro amico. Se metto le mani su quel figlio di puttana, giuro che lo inchiodo al muro. Lo metto in croce e distrappo la carne indosso. No! Tu mi piace, Luca! Oh, cazzo! No! 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 Grazie a tutti